eccoci qua per un nuovo video oggi vi presento le talee messe a dimura quest'inverno diciamo che era gennaio diciamo che la gran parte attaccato tutta addirittura qualche rametto di di vite c'è anche qualche grappolino d'uva non credo che la faccia portare avanti comunque sono qui poi tra queste all'inizio avevano prese tutte ora qualcuna è andata rimasta qualcuna sembra che sia un rosino questo e poi qui abbiamo dei fichi anche qui altre piantine di fichi tra le cui è uscito anche un ciliegio e poi ancora altre talee di fidi di viti ancora anche quest'altre diciamo che tra tutte le viti su quelle che hanno reso di più per il resto anche tre talee di olivi mi sa che ci ha lasciato e niente e andiamo avanti tra l'altro qui avevo seminato dei semi di cacchi vainiglia e praticamente tutti hanno scappati fuori ci sono delle piccole piantine che prossimamente separerò mettere nei vasetti singoli bene vi saluto prossimo video se questo video vi è piaciuto mettete mi piace se vi volete iscrivervi al canale ben lieto di accettarvi grazie